Ciao ragazzi questa è la Super Park Crew, benvenuti a Rabba, Alvaro, Andrea e Marco. Siamo da 11 anni che si ascriviamo a snow park e adesso finalmente anche a Rabba Super Park è all ready. Questo è il primo setup per la Rabba Super Park che è solo l'inizio dello sviluppo che andremo a fare nei prossimi giorni. La location si presenta ottima per tutti i giorni dell'anno visto che gli atterraggi sono sempre al sole, la parete è esposta al sud, kicker all'ombra quindi sempre duri e riparato anche dal vento e dalle montagne circostanti. Quindi vi aspettiamo. Come ha detto Andrea la location è fantastica, abbiamo molti eventi in programma e potrete controllare, vedere foto e video e quant'altro su arabbasuperpark.com. Il posto è questo, dobbiamo lavorarci ancora però è già splendido così ma sarà ancora meglio e quindi venite a trovarsi. Vi aspettiamo qui ad Rabba Super Park. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!